E adesso andiamo in Veneto a Vo, nel Padovano, il comune simbolo dell'epidemia. A Vo si è sviluppato, lo ricorderete, il primo focolaio e adesso la situazione è sotto controllo grazie ai tamponi a tappeto a cui è stata sottoposta la popolazione. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Carlotta Ricci. Buongiorno Marco, buongiorno Monica. E allora sì, uno studio e un tracciamento che è continuato nel tempo, lo ricordiamo, Vo è stata una delle prime zone rosse ad essere chiuse alla fine di febbraio. La prima vittima italiana del Covid era proprio di Vo. Quello che è stato definito il campione perfetto, una popolazione di 3.200 abitanti, screening successivi che continuano ancora e ne parleremo più tardi con l'assessore ai servizi sociali. Nel frattempo il Veneto conta nelle ultime 24 ore 2.956 nuovi casi e si attende per oggi una nuova ordinanza che fondamentalmente confermerà quelle che sono le prescrizioni in vigore qui in Veneto dal 14 novembre e durerà almeno fino al 3 dicembre. Si parla di timide aperture, nel senso che oltre alle restrizioni presenti qui in Veneto, che lo ricordiamo è ancora zona gialla, si parla di una zona gialla plus in realtà, quindi divieto di consumazione al banco nei bar a partire dalle 15, obbligo di mascherina praticamente dappertutto, divieto di fare attività fisica nei luoghi affollati, quindi bisogna stare isolati. Insomma, si sta parlando di alcune riaperture di attività commerciali nel fine settimana, per esempio le ferramenta e poi la precisazione sui distributori di carburante aperti 7 giorni su 7. Nel frattempo nel vicino Friuli, Venezia Giulia, si rinuncia alla chiusura di microcomuni come zone rosse, si preferisce lo screening a tappeto. Qui nel nord ovviamente la situazione più preoccupante rimane quella della Lombardia, che ieri ha registrato 5.094 nuovi casi, con una percentuale di positivi sul totale dei tamponi, che scende lievemente rispetto ai giorni scorsi al 17%. Situazione drammatica a Varese e Monza-Brianza. A voi.